Francesco Monte dimagrito di 15 chili grazie alla dieta Tisanore Academy Come è riuscito Francesco Monte a dimagrire e a perdere 15 chili?. Francesco Monte è dimagrito. A confessarlo il diretto interessato, anche se chi lo segue dai tempi di uomini e donne lo aveva già notato al grande fratello Vippe e non solo. Quanti chili ha perso l'ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Teresa Anna Pugliese? Ben 15 chili. Qual è il segreto della forma ritrovata? Il tarantino ha seguito una dieta particolare, la dieta tisanoreica di Gianluca Meg. Gli appassionati di televisione ricorderanno l'uomo come naufrago dell'isola dei famosi ma Meg è conosciuto nel mondo dello shopping per il suo regime alimentare seguito da parecchi personaggi famosi. . Prima di Monte si sono affidati alle cure di Gianluca Valeria Marini, Ornella Muti e tanti altri volti noti dello spettacolo, della finanza e della politica. Il metodo tisanoreica punta a dimagrire e depurare l'organismo grazie pure alla totale eliminazione dei carboidrati. Si basa pertanto su determinati tipi di alimenti, tra cui quelli proteici, erbe e porzioni tisanoreica. . . Le parole di Francesco Monte sulla dieta tisanoreica. Ero fuori forno un po' perché facevo orari folli, un po' perché sono una buona forchetta. . Mi sono fatto seguire da Gianluca Mecca ha spiegato l'attore al settimanale Oggi. . Francesco era ingrassato a causa dei nuovi progetti lavorativi, come l'agenzia di spettacolo che ha aperto da qualche anno il fratello Stefano, e della quale fanno parte Cecilia e Geremias Rodriguez. . . Monte si è dato inoltre da fare con la recitazione e con le riprese della seconda stagione di Furore, la fiction che tornerà presto su Canale 5. . . La crisi con la sorella di Belen ha fatto il resto anche se Francesco ha deciso di non parlare più dell'Argentina. . . Soprattutto ora che l'ex concorrente del Grande Fratello ha scelto di fidanzarsi con il ciclista Ignazio Moser. . Francesco Monte dimagrito grazie alla Tisanoreca. . Francesco continua a seguire la dieta che è composta da quattro fasi, quella della depurazione, quella intensiva, quella di stabilizzazione e infine quella style. . . Fondamentali poi nella dieta di Mecchi prodotti della decottopia. I decotti vengono prodotti secondo un secolare metodo di estrazione e mantenimento dei principi attivi di almeno 10 piante in forma liquida. . Questi prodotti sono senza alcol, senza zuccheri, senza glutine e senza conservanti. .